E' venerdì, ultimo giorno di allenamento della settimana, ci troviamo al nuovo di Via Olimpia. Qua ci sono i porchieri che si stanno allenando, c'è Matteo, Daniel e Johnny Perrucci dagli Stati Uniti d'America. Da questo lato ci sono i pulcini di mister Giulio Massimini, da quest'altro lato ci sono gli esordienti di mister Giuseppe, Roberto Verna e c'è anche Simone Giordano. Sempre là in fondo che scorazzano con il pallone, sempre gli esordienti, qua sempre i pulcini di mister Giulio e là in fondo c'è mister Gabriele di Felice che sta allenando i primi calci. Il mister Gabriele è anche il coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile e anche mister degli allievi. Gli esordienti si stanno... no, scusate, i giovanissimi si stanno allenando al campo vecchio. Fra poco c'è l'allenamento dei allievi che adesso si trovano dentro la struttura polivalente coperta del pallone. Ok.